Luca Benci Luca Benci Luca Benci Ricordiamo che la cosa traduzionale dice attiene il diritto alla cura anche i trattamenti diretti a provocare la morte. Luca Benci Una persona laica, attenta alla vita, alla dignità della persona, che era poco interessata all'apparenza ed era di grande concretezza. Luca Benci Luca Benci Luca Benci